Ci spostiamo adesso nella sala conferenze del padiglione fieristico dove si stanno tenendo numerosi convegni tra cui quello sulla sicurezza stradale, sul progetto 20-20-20 e un incontro organizzato dalla Confartigianato di Sandona di Piave. Vediamo quali sono stati i momenti più importanti. La provincia di Venezia è da sempre impegnata nell'importante compito di diffondere l'educazione stradale. Una giornata di oggi, tante dimostrazioni. Sì, è l'approccio che stiamo seguendo oramai da un anno, un approccio innovativo, cioè quello di portare l'evento all'interno di un'altra manifestazione. Abbiamo riunito all'interno di un unico spazio sia la Federazione Motocinistica Italiana che i pompieri con due progetti distinti legati comunque alla sensibilizzazione dei temi della sicurezza stradale. Partendo soprattutto dai più giovani per insegnare un po' quella che è l'educazione fin da piccoli. Esatto, la formula è quella di cercare di sensibilizzare i ragazzi in base all'età che hanno con i messaggi che si vogliono dare. Diciamo che questa è già la seconda giornata che facciamo perché dopo aver fatto a Ferragosto a Scorzè nella festa dello sport, abbinando la Fiera del Rosario stiamo gestendo una giornata per i ragazzi nella mattinata delle scolaresche di Sandona e nel pomeriggio anche per gli adulti che potrebbero arrivare alla fiera e attratti da questo momento di incontro per dare informazioni, per dare didattica, preparazione anche ai giovani ragazzi utenti e anche agli adulti sull'uso della moto in modo corretto per la loro sicurezza. Il Motoclub di Spinea sta raccogliendo delle firme per creare una nuova pista di motocross. Per quale motivo? Noi riteniamo che i ragazzi nelle strade siano in pericolo perché quando si corre con una bicicletta o uno scooter non c'è nessun tipo di protezione a parte il casco che si mette nella testa. Al contrario in una pista da motocross abbiamo tutti i tipi di protezione per il corpo. Vuole farci vedere anche com'è fatta questa protezione? Allora praticamente abbiamo la protezione per tutto il costato, la protezione per le spalle, la protezione per i gomiti e anche per tutta la colonna vertebrale. Questo è solo il pezzo sopra, poi ci sono anche i pantaloni con le ginocchiere, c'è il casco e c'è anche il collare per il collo. Così se per caso cadi non c'è nessun problema. Parliamo anche di consigli utili per salvarsi la vita. C'è chi ha creato un volantino apposito appunto per dare dei consigli agli utenti dallo studio Easy? Esatto, il nostro studio si occupa appunto di risarcimento del danno ogni qualvolta si verifica un sinistro stradale. Il volantino che abbiamo appunto ideato con la polizia, in collaborazione con la polizia, è appunto quella di dare delle piccole informazioni molto molto utili che danno la possibilità alle persone di capire quella che è la vera percezione del pericolo quando si è sulle strade. La cosa più importante è avere la testa sulle spalle, essere sempre attenti, bisogna avere, dicono gli occhi, anche dietro perché non è importante solo la propria condotta ma anche quella degli altri. Grazie a tutti.